Siamo con Corrado Paolazzi, Product & Marketing Manager di MAN Track & Bus Italia, per parlare di sicurezza, per MAN è sempre stato un must alla sicurezza e oggi raggiunge il top con un sistema di ADAS a 360 gradi, in che cosa consiste Corrado? Sì certo, noi dal momento in cui abbiamo lanciato la nuova gamma NewTG abbiamo puntato molto sullo sviluppare un sacco di sistemi di assistenza che si sono evoluti nell'arco degli ultimi tre anni, siamo passati dal tradizionale ACC per poi salire a sistemi molto più evoluti e ci sta P&G, poi sistemi di controllo delle corsie, sistemi di rientro nelle corse di marcia piuttosto che situazioni di traffico da gestire liberamente con veicoli di livello 2 per quel che riguarda la guida ma potrebbero essere quasi interpretati oggi con livello 3 grazie a che cosa? Il fatto che abbiamo trovato sistemi ancora più evoluti tipo l'LCPA che è un sistema che permette al conducente di guidare all'interno della corsia, essere mantenuto all'interno della corsia in situazioni di presenza di veicoli su entrambi i lati, la stessa cosa vale con l'evoluzione massima che è il Man Cruise Assist che è un sistema che ci permette sia di mantenere il veicolo all'interno delle corsie che pure avere questo effetto di rallentamento di ripartenza del veicolo in completa autonomia lo potremmo vedere come un livello 3 che però per legge ovviamente dobbiamo considerare un livello 2 quindi abbiamo raggiunto il top dei servizi, dei sistemi di assistenza. Ultimo arrivato in Man è l'OptiView, Man diciamo è l'ultimo marchio in termini di tempo nel proporre i mirror screen ma con una tecnologia super avanzata giusto? Sì assolutamente abbiamo sviluppato un sistema abbiamo come dire atteso l'avvento di un sistema che potesse essere in assoluto il migliore ad oggi sul mercato un sistema che è completo di 5 telecamere quindi non è un mix di digitalizzazione e hardware fisico bensì è tutto digitalizzato, display interni con la suddivisione in quattro quadranti differenti per migliorare la visibilità delle varie aree del veicolo e facilitare anche il conducente nel riuscire a familiarizzare con un sistema che chiaramente spezza completamente con il passato e che ovviamente già da oggi diventa praticamente un presente applicabile e accettabile da parte del conducente migliorando in assoluto che cosa? Sicuramente i punti morti che sono l'aspetto più delicato per un conducente che si trova alla guida per poi dopo migliorarne tutta una serie di altri aspetti che speriamo i nostri clienti avranno piacere di scoprire venendo a trovarci nei nostri center e nelle nostre concessioni. A questo punto Corrado cosa puoi dire ai clienti MAN? Beh sicuramente scegliete gli angeli custodi a bordo